Buonasera amici di Radio Rossonera, buonasera qui dalla radio, domenica 8 settembre del duemilaventiquattro. È un video che ovviamente non doveva esserci, eh come avete visto dalla copertina è un video nato dalla necessità di eh fare un pochino luce su quello che è accaduto a Isma Benasser e soprattutto le ricadute che potrebbero esserci nelle prossime ore e soprattutto ancora di più nei prossimi mesi. Saluto Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao ciao a tutti, buonasera. Ah partiamo dal fatto in sé, eh me, Ismael Benasser in nazionale con la sua Algeria si fa male al polpaccio, problema muscolare, problema non di poco conto e il rischio è quello che sia una lesione di terzo grado, vorrebbe dire due, tre mesi di assenza, molto più probabile tre, cioè novanta giorni di assenza, vorrebbe dire strappo, vorrebbe dire perderlo praticamente fino a gennaio, quando poi si riaprirebbe il mercato, le liste e quant'altro. Allora, eh beh ovviamente la notizia partiamo da qui, è freschissima, bisognerà avere gli ultimi aggiornamenti che ci saranno eh nelle prossime ore, però quelli già effettuati con eh nazionale algerina parlano di un problema molto consistente. Ma guarda, diciamo che il nostro centrocampo da diversi a mesi questa parte per me è il reparto assolutamente più debole di questa squadra. Quest'estate è stato gestito in maniera discutibile perché tanto ne abbiamo parlato diverse volte, no? Di come si è arrivati alla fine con assoluta frenesia, confusione, disordine perché già la questione Benasser è stata proprio un simbolo, no? Della confusione con cui si è gestito questo mercato, soprattutto questo reparto, mi viene da dire sembra quasi destino, no? Che che questo giocatore eh non ci fosse perché si era pensato di poter fare a meno di Benasser, a mio parere si era pensato tardi di fare a meno di Benasser, nel senso che è un giocatore che con l'infortunio che ha avuto gravissimo ci sta che pensi di di cederlo perché comunque eh l'abbiamo visto, no? I dubbi stessi che abbiamo su su Abram dopo un infortunio pesante, si parla sempre delle stesse cose, no? Quando si arriva a vedere un infortunio grave non sai mai se il calciatore può tornare lui. Il punto è che se volevi venderlo, ipotesi che poteva anche starci, però dovevi venderlo subito, dovevi venderlo all'inizio, preoccuparti di trovare il sostituto di livello perché il sostituto di Benasser deve essere un sostituto di livello. Ora la situazione ecco più che altro perché visto che era rimasto alla fine si è rimesso credo anche nell'ottica di recuperare il giocatore anche perché io ve lo ricordo sarò pessimista ma non credo non siamo tanti. Allora prima di andare sul resto dai facciamo un attimo il punto della situazione prima di trarre giudizi guardiamo un attimo i fatti. I fatti dicono che il Benasser rischia di saltare settembre, ottobre, novembre quindi di tornare quantomeno in dicembre. Vorrebbe dire fare a meno di almeno una ventina di partite mal contate di un centrocampista che comunque era la tua terza, quarta scelta, chiamiamola come vuoi, seconda. Ognuno poi valutava Benasser all'interno della Rosa in maniera differente. Ci sono due problematiche le andiamo a vedere. La lista serie A allora la lista serie A era così composta Benasser in giallo ovviamente ve l'ho sottolineato per far capire quale sarebbe nel caso il suo possibile ruolo cioè è già all'interno dei 25 nei 17 giocatori senza vincoli che quindi andrebbe nel caso sostituito perché si può sostituire. Si possono fare due sostituzioni in lista serie A più o meno quando si vuole. Ora vi ho sottolineato anche in verde quelli che sono i ragazzi che in questo momento già abbiamo in Rosa soprattutto per quanto riguarda Milan Futuro ovvero Voss e Zeroli che alla bisogna sono quelli che potrebbero salire e dare una mano al reparto. ipotesi Rabiot ve l'ho scritta anche lì sotto potrebbe giocare solo in serie A perché come vi ho detto la lista serie A è modificabile anche domani. La lista Champions League invece è chiusa fino a gennaio quindi le prime partite della competizione non le potrebbe giocare Rabiot sarebbe valido solo e soltanto per la serie A. Voss anche è fuori dalla lista Champions League perché non ha i due anni di settore giovanile e quindi in Champions in ogni caso l'unico che ci potrebbe venire in soccorso è appunto Kevin Zeroli che avendo i due anni di contratto scusate di settore giovanile anzi Kevin ne ha molti di più può giocare in Champions League da lista B sale o comunque è elegibile per le partite. Questa è la situazione al momento quindi se vogliamo prendere lo svincolato di lusso cioè Adrien Rabiot per la prima parte di stagione vale solo per la serie A e Voss se ci può dare una mano la potrà dare solo per la serie A perché Voss in serie A under 20 2 può starci in Champions League no perché oltre all'under deve avere i due anni di contratto e quindi Champions no. Questa è la situazione. È una situazione assolutamente complessa nel senso complessa perché già non sapevi di poter contare su Ben Asser visto come ci si era lasciati però ovviamente un giocatore che stava bene dovevi fare di tutto per integrarlo. Adesso invece sai che proprio non ci sarà per questo brutto infortunio al polpaccio che ha avuto. Io ti direi fosse per me Rabiot è a Milanello domani perché sei in una situazione che ti serve dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della leadership, dal punto di vista dei numeri anche se magari se andiamo proprio ad analizzare minuziosamente le caratteristiche di Rabiot è quello che ci serve? Punto interrogativo. Nel dubbio per me domani sarebbe già a Milanello. Il mercato è chiuso, questo c'è. Il problema è che viste anche le indiscrezioni che erano uscite rispetto alle cifre richieste dalla mamma di Rabiot bisogna capire se innanzitutto il Milan è disposto a un sacrificio del genere perché è un sacrificio nel senso che visti i paletti di cifre non è un giocatore solitamente da Milan per le cifre. Bisogna capire quindi se il Milan è disposto a e se lui è disposto a scendere un po' perché in questo momento è a casa non fare niente. Bisogna capire se però c'è la volontà davvero di andare su Rabiot oppure ci si accontenta di boss Zeroli in Champions League. Per carità eh? Però è un'altra cosa. Le alternative sono molto semplici. O si mettono sul piatto un po' di milioni per un giocatore che comunque metà della stagione la viverebbe solo e soltanto in Serie A e oltretutto un 20 giorni è qualcosa? Ha bisogno di fare la preparazione? È fermo. Quindi avrebbe anche bisogno di mettersi in moto per essere spendibile. Oppure si sta con boss in Serie A insieme a Zeroli e Zeroli e solo Zeroli per la Champions League. Quindi questi sono gli scenari. Ora il Milan credo che si prenderà qualche ora anche per capire dopo gli ultimi esami di Benassert come sarà e quanto sarà grave il danno al polpaccio e poi penso che tirerà le proprie conclusioni. Noi ci ritroveremo nelle prossime ore per capirne un po' di più e faremo di necessità virtù? Faremo in maniera diversa? Chi lo sa? Vedremo. Sì sì vedremo diciamo che non ci voleva perché in mezzo a tutto quello che già è la situazione del Milan in questo momento una sosta sicuramente non serena, inutile che ci prendiamo in giro, una sosta non serena, questo è stato l'ennesimo colpo che bisognerà cercare di riassorbire. Per quanto mi riguarda bisogna fare di tutto per cercare di dare a Fonseca un centrocampo comunque almeno con delle pedine non importanti ma delle pedine perché ripeto per me in questo momento considerando un po' tutto non siamo tantissimi. No non siamo tantissimi, rimangono appunto Reinders e Fofanà, Musa e Loftus Cic a questo punto che è l'unico che potrebbe venirci a dare una mano dei diciamo così titolari di questa squadra scalando dalla tre quarti ma se scala lui in tre quarti deve comunque andarci qualcuno potrebbe esserci Pulisi che potrebbe esserci magari un liberale che viene su ogni tanto a darci una mano anche lui. Se non arriverà qualcuno dovremo fare un po' di necessità virtù e cercare di fare il meglio possibile fatto salvo che appunto ad esempio giocare a tre in metà campo a questo punto diventa quasi utopisto. Bea siamo arrivati in chiusura noi ci lasciamo col fantacalcio come al solito per la nostra lega di fantacalcio e di fantalgoritmo di Radio Rosso Nera con venti euro vi potete scrivere e partecipare ad essere appunto dei nostri vi lascio al video poi vi lascio all'editorial di domani mattina a mattino milan delle dieci e a tutti i nostri appuntamenti del lunedì. Bea grazie buona serata. Grazie a voi a domani. L'estate sta finendo e l'asta del fantacalcio si avvicina. Fanta algoritmo è il miglior strumento per aiutarvi a scegliere gli obiettivi su cui puntare. Da oggi è possibile iscriversi a una nuova lega di fantacalcio a premi pensata proprio per i tifosi del Milan. In palio ogni settimana una maglia del Milan oltre a tantissimi prodotti Apple per la classifica finale. Cosa aspetti? Trovi il link d'accesso in descrizione e sulle storie Instagram di Radio Rosso Nera. Il costo di iscrizione è di soli 20 euro ma in più otterrai tutte le statistiche e le funzioni premium di Fanta Algoritmo.